benvenuti nel mio nuovo video siamo a Boarezzo e vi porto a vedere la cascata di Boarezzo si sente già il rumore della cascata e vi porto a vedere la cascata di Boarezzo siamo quasi arrivati alla cascata siamo circondati in un bosco di Paggie andiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.